no scusa è un momento pasta adesso questo qua è l'astrovan siamo atterrati da poco è un momento pasta ma io prima ti ho visto e io ti ho suonato come un bastardo ma hai neanche salutato si si cambia discorso metti a fuoco certo certo buon appetito guardate qua ok guarda vedi il nutrizionista qua cosa dici è Diego il nutrizionista guarda non so io quelle robe le mangio no per lui è veleno va beh ragazzi avete visto che in questa intro vi ho fatto venire un po' l'acquolina cioè Nick, Diego, Johnny, Ivo poi pomeriggio arrivano i local che hanno costruito tutti i salti che ci sono qua siamo nel posto in cui io ho iniziato veramente a trekcare e a girare in bici vi dico solo che su questo salto qui io ho fatto il mio primissimo backflip ragazzi ma come me? bastardo! stigla? eccolo! allora dobbiamo spiegare perché loro non sanno niente non sono mai stato qui per loro però in realtà ragazzi qui ho passato veramente la mia infanzia la mia scuola di trick freeride è proprio qui a Rovella e Ivo poi quello che ha messo in piedi il Tuskos diciamo noi in Brianna giusto? però oggi a me ricorda un pochino i vecchi tempi sai chi manca secondo me? Maurella maurella manca il nostro Mauro prima mi hai spoilerato mi hai anticipato che ci sono un po' di cose un po' nazerelle in giro da appendersi a un po' i freni ripidello là dietro c'è il suo perché c'è il suo perché è vero quindi entrare delicatamente trovare la linea guardare giù precisamente precipitare e salvarsi il culo lui sa imitare benissimo Ivo quindi entrare delicatamente trovare la linea guardare giù precipitare e salvarsi il culo minchia uguale in realtà adesso davanti alla telecamera non lo mostra però lui non è uno con i peli sulla lingua ragazzi quando noi sbagliavamo le cose io e Diego ci diceva fate cagare è rimasto e resterà per sempre questo è appena arrivati a Whistler Diego ovviamente voleva subito andare al supermercato e tornare a casa senza farlo in centro a Whistler devo mangiare la pappa Ivo devi qualcosa un commento per Diego prima si va a vedere la base e dopo tutto il resto Diego devi morire anche grazie a questo concetto siamo io e Diego siamo riusciti veramente a progredire e a dire ok non ci dobbiamo fermare qui dobbiamo progredire e dobbiamo crescere due cose due anzi tre canne slegato fate quello che sapete fare e accendi il dispositivo allora praticamente adesso siamo in tutta questa zona salti come vedete ci sono un sacco di salti gobbe qui c'è uno step down bello grosso sotto c'è uno step up ci scaldiamo un pochino su questi saltini Ivo spaccagliela addosso quella roba lì prima devo romperla e poi sfregiarla come era come era cani sciolti e fai quello che sai fare vale adesso valeva allora e sarà sempre così buongiorno buongiorno vediamo flip tack uno dei primi trick che ho imparato qua riproponiamolo tagliene chicchello mambi si mambizzi oh io sono qui apposto per casarti eh nick du lo sai fare è il tuo trick signature si ooooh 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 e poi e poi e poi e poi e poi l'hai vista? tranquillo tranquillo era tuo tranquillo 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 tu dubiti delle signature? tranquillo io non dubito del signature grazie comunque ragazzi è una cazzata non ho scontato è una cazzata deve sempre parlare Ivo se non entra nei video com'è che si chiama lui? ivido ivido perché ha un misto tra Ivo e avido comunque dicevo ragazzi sono impressionato ogni volta da questa bici quanto sia maneggevole sempre per fare 3.6 ho sempre paura di fare 3.6 ma invece alla fine mi trovo quasi uguale alla dirt il giro sarà da 12 perché ragazzi c'è anche la discesa fino in fondo che è una roba incredibile ragazzi guardate che trenino ragazzi siamo in 14 ragazzi qua se ne manca uno non è la rampa dritta si vai tranquillo porco zio ho rischiato la morte ho rischiato la morte estrema io madonna tanto sono arrivato lungo ragazzi si sono rimpiccioliti i salti in questo posto oggi il mio jolly proprio estremo fatto chiuso ok bisogna calmarsi ragazzi perché qui la situa è calda johnny che rischio anche te che ti sei cacciato occhio occhio oh scusa nick sorry ti sono passato davanti proprio ero a treno madonna se johnny hai rischiato sui due droppi di fila hai fatto però scusami un attimo tanto di cappello che ho fatto tutto comunque tanto di cappello rischi su rischi ma allora io non riesco a capire se sia il fatto che c'è sempre la cp gang cioè c'è tipo la nuvoletta di fantozzo cp gang perché cioè questo giro è stato un solo jolly ho visto davanti ma qui che guida il nostro johnny oh oh ma sei matto johnny minchia ma che guida sai adesso volevo riguardare il video perché secondo me da quello che mi ricordo io tanto che stavo aggiornando nell'ultimo pezzo quando indurisci il fiato ero pronto proprio a tirare la legna la mina della vita puoi controllare quanta cacca c'è dentro le mutande dalla ripresa della gopro non è che si capisce proprio bene in realtà non sono caduto in avanti cioè non è che mi sono impuntato stavo andando in avanti ma quando sono atterrato fortunatamente sono andato indietro e poi mi sono sdraiato e ho con l'aletto preso dentro il manubrio che è sparata via e quindi la gopro ha puntato in cina ma adesso nick capisci perché siamo diventati nazi perché giravano qua girando qui con questi qua matti che ci costruiscono questi salti dove siamo stati abituati a girare un po' la canadian si può dire mi sembrava veramente quando vai a girare in canada che sei tipo in 15 e nessuno ha fatto il trail e ci sono dei rischi allucinanti quanto sono stato graziato da uno a dieci in quel jolly lì esatto 22 almeno cioè proprio oltre il doppio inspiegabile questi spegnimenti questa qua era un'alboretata vedi qual è il problema se io non mi porto l'alboretto tutte le alboretate che si prende l'alboretto di solito passano a me e invece l'alboretto sarà bello tranquillo in park così per favore scrivete nei commenti dite qualcosa all'alboretto perché non è possibile che io devo rischiare perché a lui non viene vi sembra giusto? no sicuramente no adesso che stiamo facendo questa pausetta volevo parlarvi di questo posto perché in realtà adesso voi lo vedete così ma appunto quando io ho iniziato in realtà qui c'era un bosco veramente fighissimo di pini c'era un clima veramente spaziale comunque tra l'altro ragazzi proprio in questo punto qui io tipo due o tre anni fa adesso non mi ricordo di preciso quando ho fatto la controfigura per un film che è andato al cinema che si chiama Ride quel giorno lì avevo filmato tipo stile vlog e non facevo ancora i video su youtube regolarmente volevo documentare tutto il backstage più o meno ma fatemi sapere se magari dovrei fare proprio un video a parte che vi racconto un po' come è andata con la giornata di filming backstage di un film che poi è andato nel cinema e come abbiamo fatto a camuffare la bici perché io trickavo con la bici a dirt ma in realtà nel film i due protagonisti usavano una bici a downhill e quindi abbia dovuto camuffare la mia bici a dirt per farla sembrare la stessa bici del film che erano totalmente diverse fatemi sapere nei commenti se volete vedere questo tipo di video adesso proviamo a fare un trenino super pro con Diego Nick vediamo vediamo cosa esce allora facciamo un bel trenino per Dio bella gioca facciamo un'altra discesa fino in fondo adesso cambiamo un po' di un pochino il trail ha detto che c'è un bel muretto incazzato ma com'è è molto ripido? si holy shit che figo però bellissimo quella è proprio Utah è bello si proprio così è tutta colpa di Ivo sempre sempre colpa sua che ci fa aspettare no da noi non può far culo te prima ti sei fronato per terra che cazzo avete visto come si fa incazzare Ivo in due secondi ciao Ivo scusate se non parlo ma qui è impegnativo pensate che quello step up lo flippavo io un tempo bello 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 porca miseria che flow oggi giornata epica direi allucinante vero? per me è un comeback non saltavo da tre anni sicuramente Johnny Johnny con te solo giornate io ho fatto dietro di te giornate puoi dire solo che è stato uno spettacolo ma è stato uno spettacolo ma assolutamente lui tanto è iteratandro ma assolutamente si diverte dietro quando ha steccato voglio vedere come si divertiva non ero troppo divertito però era proprio perché c'avevo davanti Johnny no ho detto devo giornare io ho saltato in quel salto lì ho saltato ho detto sono arrivato lungo ok non voglio immaginare toto dietro dopo ho sentito un tonfo video in freeride non ne faccio tantissimi però spero che esatto magari fatemi sapere nei commenti se volete magari vedere più video con tutti loro organizziamo qualcosa esatto organizziamo qualcosa ricordatevi sempre di iscrivervi che mi fa un sacco piacere stiamo crescendo un sacco quindi grazie mille per il supporto e ci vediamo al prossimo video bello ciao ciao ciao